Ancora un incidente sulle strade calabresi. Questa mattina, a Santo Todaro di Nardo di Pace, nel Vibonese, tre persone sono rimaste coinvolte. Non sono ancora chiare le cause, ma l'auto su cui si trovavano si è capovolta, causando diverse ferite ai passeggeri. Due di loro, infatti, hanno riportato un trauma cranico non commotivo. Una donna di 87 anni, nello specifico, ha riportato anche la frattura della gamba e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Iazzolino di Vibo Valencia, mentre una signora di 80 anni ha avuto conseguenze peggiori e si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha trasportata al GOM di Reggio Calabria. Vi è anche un parroco tra i tre coinvolti dall'incidente. Si tratta di Don Franco Maiolo, sacerdote di Ursini.